Siamo arrivati alla conclusione dello speciale più lungo del mondo, uno speciale iniziato ieri sabato e concluso oggi domenica con questa straordinaria presentazione. La biosfera ci ha fatto palpitare, ci ha fatto trepidare, però ci ha donato uno spettacolo magnifico che abbiamo raccontato non solo con le immagini ma anche con le parole dei protagonisti, degli ideatori, di tutti quelli che hanno avuto una parte importante in questa installazione che comunque tutti i cittadini e tutti i telespettatori di Rossini TV avranno modo di scoprire anche nei prossimi giorni perché starà sulla nostra piazza per un anno intero, l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. È stato molto emozionante, tante persone che hanno guardato davvero con sorpresa uno spettacolo audio-luci unico che ha dimostrato quante potenzialità ha questa sfera. Questi sono i primi tre contenuti ma in futuro se ne potranno fare tanti altri e soprattutto è una sfera che funzionerà tutti i giorni e quindi sarà un'attrazione nell'attrazione e poi rimarrà Pesaro e quindi diventerà un nostro simbolo e diventerà il simbolo che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Un'idea di Vimini è quella di ragionare sulla sfera perché c'è un filo conduttore che lega modernità e storia la modernità della sonosfera con la biosfera, la storia della palla di pomodoro, della sfera di pomodoro e la storia della nostra città dal punto di vista sportivo, in particolar modo il pallone da basket che tutti hanno con il quale palleggiano da quando sono piccoli, il sole che tramonta sul mare in quel mese e mezzo straordinario dell'estate dove siamo una delle pochissime realtà nell'Adriatico che vedono il tramonto sul mare ma è anche la ruota della bicicletta, la ruota della motocicletta, se vogliamo anche la pista Rossini e quindi è un simbolo che ritorna, non a caso questo palco l'abbiamo allestito con una copertura sferica e non a caso la biosfera è stata la scelta, è davvero un oggetto che lancia Pesaro nel futuro e nella modernità. Anche questa sera i volontari sono protagonisti della biosfera, dell'inaugurazione della biosfera, questo grande oggetto artistico che abbraccia la cultura e l'arte nella capitale italiana della cultura. Quest'amministrazione si sta caratterizzando per mettere a sistema tutto ciò che di bello è potente, possiamo esprimere come comunità, anche l'innovazione tecnologica è un pezzo della capitale italiana e della cultura grazie al bando che abbiamo vinto con la CTE, la Casa delle Tecnologie Emergenti, oltre 11 milioni di euro che ci ha permesso di portare a Pesaro una grande opportunità di tecnologia e una grandissima attrazione. È stato un progetto lavorato anche con tutti i partner, le due università che sono delle marche, l'Università di Urbino e l'Università di Ancona. Insieme hanno creato questo progetto con tutti i partner che sono 17 e è stato vinto questo bando e quindi sono arrivati a Pesaro questi 11 milioni e 300 mila euro. Questo oggi è il primo progetto che vediamo proprio in concreto che i cittadini possono toccare e poi nei prossimi giorni ci saranno anche nuove inaugurazioni dove la Casa delle Tecnologie ha comunque lavorato per tutta la parte tecnologica e innovativa. Oltre a tutto questo, le imprese, gli artigiani che hanno lavorato per creare questa biosfera sono tutte di Pesaro, quindi è vero che ha un costo questa biosfera, ma è altrettanto vero che abbiamo lasciato i soldi nel nostro territorio. I fondi che arrivano dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie al bando vinto sono soldi che devono essere spesi per tutto ciò che è innovazione e tecnologia. I contenuti saranno di tre tipi, il primo artistico che sarà una vera e propria scultura digitale dove il pubblico può interagire e scolpirla, la seconda di valorizzazione dei luoghi di Pesaro e la terza invece è il cambiamento climatico e mostrare un po' la situazione attuale, quello che andremo incontro nei prossimi anni. Sono un lavoro di circa otto mesi di pianificazione tra varie fasi del concorso per idee, siamo giunti appunto a questa ultima versione del progetto dove abbiamo materializzato tutto dalla progettazione all'ingegnerizzazione e quindi lo sviluppo dei software per poter integrare appunto vari flussi di vari prodotti che arrivano un po' da varie parti del mondo, dalla Cina per quanto riguarda il LED, le strutture sviluppate in Italia, tutto il software sviluppato in Italia e la parte sensoristica che ci aiuta appunto a acquisire i dati per tutta la parte machine learning e AI che va a alimentare quelli che sono i contenuti dinamici e interattivi del progetto.